Innanzitutto questa manifestazione di Pestum testimonia la vitalità del nostro partito. Tantissimi giovani, tantissimi dirigenti, grande entusiasmo e anche una struttura che si conferma una struttura ormai fortemente radicata sul territorio. Certo la Calabria in questo contesto è una regione fra le migliori, se non la migliore in assoluto, anche in termini di risultati e in termini di organizzazione. Noi vogliamo continuare attraverso un'efficace azione di tesseramento e poi attraverso una riorganizzazione sui territori ad avere la presenza sui territori che è necessaria e ad avere una organizzazione che supporti anche le istituzioni. L'ottimo lavoro del Presidente Occhiuto come Presidente della Regione, l'ottimo lavoro anche dei nostri riferimenti a livello provinciale e a livello locale che va supportato efficacemente da un'azione di un partito che discuta, si confronta i progetti e poi trasferisca tutte queste idee nelle istituzioni.